La raccolta differenziata ti segue in vacanza e questo lo slogan dell'iniziativa Ricicla estate, bellezza, paesaggio e difesa del mare, promossa da Lega Ambiente Calabria. La campagna consiste nel posizionare presso gli stabilimenti balneari aderenti degli appositi bidoncini per depositare i rifiuti di imballaggio in modo differenziato, dandogli una nuova vita e permettendo ai consorsi che fanno parte del sistema Conai, che garantiscono il riciclo, di trasformare quello che prima era solo un rifiuto in una preziosa risorsa. Attiveremo, laddove ci sono i comuni che hanno già attivato la raccolta differenziata, la raccolta differenziata coinvolgendo i turisti, ma coinvolgendo in un gioco che è quello dell'attività gioiosa nei confronti di questi rifiuti che invece possono essere utilizzati economicamente e che invece potrebbero avere un ruolo importante nella nostra regione. Accanto a questo è il ruolo politico che vogliamo lanciare alla giunta regionale nel senso che i bambini manderanno al Presidente Oliverio una cartolina nella quale praticamente diranno che loro sono pronti a fare la raccolta differenziata e chiedono a lui la collaborazione, quindi alla regione Calabria. Questa è una provocazione perché di fatto noi partiamo dai turisti che in tutta Italia fanno la raccolta differenziata e li costringiamo a fare la raccolta differenziata anche nella nostra regione. Vorremmo che anche i nostri cittadini potessero fare questa cosa e strutturandola in maniera corretta ci auguriamo che possa esserci.